Una panchina rossa per non dimenticare le donne vittime di violenza, l'inaugurazione questa mattina a Corso Vittorio Emanuele nei pressi della Fontana Comunale. Un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione Palomba, in particolare dalla consigliera con delega alle pari opportunità Ionanda Mennella, nel mese tradizionalmente dedicato alle donne e alla sensibilitazione contro ogni forma di violenza di genere. Una panchina per non dimenticare, una panchina che è simbolo di tutte quelle donne che comunque sono ancora oggi vittime di violenze, per contrastare e eliminare tutti quegli stereotipi di genere che sussistono ancora nella nostra cultura. Questa panchina deve servire per riflettere, magari chiunque passa di qui e si siede è un momento di riflessione capire dove sbagliamo, a volte quali sono gli errori che si commettono, perché la violenza non è solo quella fisica ma anche quella psicologica e quella comunque verbale. Ne abbiamo già messe alte di panchine rosse per sensibilizzare i ragazzi delle scuole e in particolar modo per dire no a qualsiasi violenza sulle donne. Questo è fondamentale perché parte dalla scuola, parte dai ragazzi, dagli insegnanti affinché la nuova generazione futura abbia il rispetto verso le donne e quindi evitare qualsiasi forma di violenza. A taglio del nastro erano presenti anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Nicola Sassoli Torre del Greco a conclusione di un percorso di attività sul tema. Sui banchi di scuola è importante parlare di questi argomenti, se ne parla tanto i ragazzi si sono resi conto che purtroppo è una problematica a livello mondiale nonostante le statistiche parlino di numeri che sono in diminuzione perché le donne hanno preso coraggio, le ragazze hanno preso coraggio e hanno tutto il diritto di vivere nonostante ciò, soprattutto nelle realtà più piccole, esiste ancora questa problematica. Oggi l'inaugurazione di questa panchina nella nostra città sta a colmare proprio il vuoto di quelle perdite, di quelle donne ricordiamo anche una ragazza di Torre del Greco che qualche anno fa è stata vittima di violenza e serve proprio a ciò parlarne.